Il mio lavoro è un mazzo di carte originale, perché è un po' più grande rispetto a quelli della norma. Riuscite a vedere che sono tutte diverse, le faccio vedere un'altra volta. Sono delle carte tutte differenti. Ok, le diventano una mestra, una mestra qualsiasi, perfetto. Le faccio vedere anche voi. Abbiamo fatto un fio, 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 ok. Quindi sono tutte differenti. Abbiamo fatto un'incarca di tutte diverse. Dovresti dire questo inutile, ma se non c'è, scegliere la carta, prenderla, mostrare la nostra, e ricordarla, ricordate, ricordar. Siete pronti? Memorizzate questa carta. Mi raccomando, non ditemila tante, non devo saperla. L'assistente ha fatto una volta vista, è benissimo. Ve la ricordate? Ok, non ditela. Mettila a cura di un punto qualsiasi. Benissimo. Vieni pure il pazzo, domani se si sarebbe tutto questo modo. Voilà, grazie mille. Allora, quello che adesso ti chiederò è di metterti esattamente in questo punto, qui. Mai, mai sparato per l'alto? Ad un mazzo di parte? Sì. Mai. Ok. Ovviamente per l'occorrenza ho portato, perché il rumore sarà molto forte. Quindi anche a voi vi conviene stappare le orecchie. Grazie, utilizza il nostro bellissimo apparecchio, perché è molto importante. Avviciniamo un po' il nostro tavolino. Al mio prego. Ti consegnerò la mia pistola e dovrai caricare esattamente in questo modo e cercare di toccare il mazzo di carta. Attenzione, il mazzo di carta, non dall'altro parte, ok? Il mazzo salderà la carta, che sarà la carta? Scegli. E sarà costita a rimanere? Tenevo proprio il tavolino, ok? Per l'occorrenza, al massimo se non dovresti, per qualsiasi problema, comportate anche questi occhiali. Sì, no? Ok? Grazie. E mentre è tenuto da qui. Benissimo. Solo per guidare, ovviamente, nella... Ok, un applauso alla mezzera. Alla mezzera, Anna. Un applauso bellissimo. Per quanto riguarda? Per quanto riguarda? Carica. Se vuoi, ti mando un pochino. Incarica, sapete? Va meglio? Ok. Dovrai girare e al mio tre sparare. Allora, inizia il tanto caricare. Allora, il mio tre, iniziamo la mente, ok? Al mio tre, dovrai girare? No. Uno. Due. Tre. Cosa è successo? No, un attimo, un attimo. Scusate. Sì, mi briga. Mi briga, mi mostra un attimo, un attimo. Qui, qui, esattamente qui. Dovrai prendere proprio le carte, ok? Guardate che risposto, vai, no? Un attimo. Un po' più a destra. Perfetto. Ci siamo. Al mio tre. Pronta? Aiutatela. Uno. Tre. Grazie, grazie. C'è qualcosa che può andare. Riprovi al tanto, o non si sa? Forse sono io chiaro, guardate. Proviamo. Ma questo potrebbe essere più laser. Ecco, laser. Lo vedi? Ok, perfetto. Proviamo con il laser. Potrebbe essere direttamente opportuno. Prova. Dovresti girare qui. Vengo i miei. Aspetta. Sei qui. Ci sei. Un attimo, sembra che stai per comitare. L'ho vero. Ok. Sei pronta? Attenzione, diamo. Costa un. Uno. Due. Tre. Avanti, passi, ma è che tu sei. Ok. Riprovi al nostro modo. Ok. Un attimo. Un attimo. Forse per l'oppolenza andrebbe meglio questo, giusto? Questo mio. Almeno, potrebbe essere. Ok. Il mio tre. Prova a mirare qui, ok? Carica. Mi rido. E la mia risa c'è con me. Non voglio ridere, sennò sbagliamo. Vi raccomando, aiutiamo la mia spalla. Uno. Uno. Tre. Uno. Uno. avete fatto una pronta alla carta? grazie, grazie, grazie non ho capito, scusami cos'era? era il quattro? sì e quello non era il cinque scusate facciamolo ci provo io? vado? al mio tre, aiutatemi carico, uno due, tre grazie 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 grazie